Corai, qualche assenza pesante, però sembra una frase fatta, ma veramente di stasera salviamo la prestazione, visto che non sono arrivati i punti. Sì, è un peccato contro un avversario molto difficile, però insomma possiamo dire che la prestazione era giusta, tante cose giuste, e però alla fine mancava l'ultimo pezzettino, l'ultima cattiveria nell'attacco per creare danni anche all'avversario, però in grande parte della gara abbiamo fatto le cose giuste. Il Verona fisicamente sta bene, questa è la cosa più importante, anche visti i prossimi impegni contro squadre più a portata. Sì, direi che fisicamente stiamo molto bene, stiamo ancora crescendo tanto, c'è ancora tanta possibilità di crescere in ogni aspetto, però possiamo dire che fisicamente siamo tutti messi bene e ci vuole anche per il nostro gioco, e così ci prepariamo tutta la settimana per arrivare qua al weekend fisicamente sempre pronto, e poi certamente anche tatticamente le cose giuste, la qualità che arriva con la fisicità, che ce l'abbiamo. Sono adorati i tifosi nel settore ospiti, dopo lo stop delle ultime settimane, comunque è bello verli vicino. Bellissimo, bellissimo vederli già nel riscaldamento, si hanno fatto sentire, sono sempre vicino a noi, e sono sempre con noi, e per quello siamo molto fortunati, direi, e ringrazio tutti quanti che sono venuti oggi anche, e speriamo che nella prossima partita vi possiamo regalare di nuovo punti a casa nostra. A casa nostra tra una settimana esatta c'è proprio una bella settimana intera per lavorare e farsi trovare al meglio. Sì, una settimana intera, dove possiamo analizzare un po' le cose che non sono andate tanto bene oggi, e ovviamente anche prepararsi bene contro un avversario di nuovo è molto difficile, che nel fase di difensiva sono molto tosti, e dobbiamo trovare le soluzioni giuste per farli del male, e questo sarà l'obiettivo di questa settimana.